Il segreto, puntata mercoledì 18 ottobre 2017, parenti serpenti, anticipazioni, nella puntata che vedremo mercoledì 18 ottobre fe, disgustata, accuserà Maurizio di aver abusato di Caridad, ma lui sarà talmente sorpreso da non sapere cosa rispondere, egli proverà solo a negare di aver mai aggredito la donna allo scopo di violentarla, Damian vorrebbe parlare con Beatriz, ma lei gli sfugge, Ulpiano, intanto, il figlio di Adela, vorrebbe arruolarsi in marina e Adela chiede a Carmelo il motivo per cui la evita, prima parte, un futuro lontano, nel frattempo, Ulpiano, il figlio di Adela e Leonidas, l'uomo eliminato per errore da Carmelo, decide di partire per arruolarsi in marina, il giovane intende seguire questa strada, ed in effetti appare in questo momento la soluzione migliore, se non altro potrà avere un futuro tranquillo, cosa che gli sarebbe stata estremamente complicata dopo la perdita del padre, Cristobal aveva già abbrigato perché questo accadesse, probabilmente nell'ambito del ricatto da lui fatto a Carmelo riguardo ad Adela, che ignora che Ulil sia l'assassino di suo merito, anzi, la donna, vedendo lo strano atteggiamento dell'uomo, cercherà di capire cosa c'è sotto, seconda parte, le accuse di Fè, in seguito alla sconvolgente confessione della sorella, Fè, disgustata, accusa Maurizio di aver aggredito Caridat, il capomastro sembra cadere dal pero e non capisce neppure di cosa e la stia parlando, Fè è a questo punto completamente disorientata, e la avrebbe la tentazione di credere a quanto sostiene il suo amico, ma non vede il motivo per il quale la sua gemella avrebbe dovuto inventare una simile menzogna, la donna si è presentata in stato confusionale, con i vestiti strappati e le braccia piene di lividi, chi è stato dunque a ridurla in quelle condizioni, è piuttosto probabile, in ogni caso, che la gemella di Fè voglia gettare discredito sul godò e per vendicarsi del suo atteggiamento ostile, o più semplicemente per fare del male alla sorella, sempre a causa dell'incidente che le è capitato, ultima parte, fratelli coltelli, nel frattempo, Damian vorrebbe parlare con la sorella Beatrizio, lei, però, che è ancora sconvolta per aver appena appreso che lui è suo fratello, gli sfugge, e confida a Camilla di non sentirsi affatto a proprio agio in presenza del giovane, non è ben chiaro se il disagio di Beatriz nasca dal sentimento che in lei stava nascendo nei confronti dell'ambiguo giovanotto, o se la abbia ricordato particolari inquietanti della sua infanzia, Damian, infatti, aveva cercato di ucciderla, ed è per questo che lei era stata affidata a Emella, Ernando, in ogni caso, sembra disposto a passare sopra gli sbagli del passato, e tratta Damian con tutti gli onori, questo suscita in Camilla e Beatriz grande sgomento.